Buongiorno, oggi faremo delle orate al forno, ecco le abbiamo pulite, togliamo le squame, la coda che è tutta spinosa, poi li mettiamo nella teglia con cipolla, con aglio e limone, un po' di pepe e li facciamo andare al forno a 180 gradi per 20 minuti. Grazie a tutti.